Ora, prima di andare avanti con le spiegazioni e le lezioni, è bene andare a spiegare come possiamo andare a installare sulla nostra macchina TypeScript e iniziare a scrivere codice, effettivamente in un nostro ambiente su cui abbiamo il controllo. E quale è il miglior modo per farlo al momento che mentre siamo sul sito ufficiale di TypeScript, che è e sarà la nostra guida assoluta durante questo nostro corso. Se ci andiamo a spostare nella home del nostro sito di TypeScript, ci troviamo davanti al fatto che ci dice di provare TypeScript adesso online oppure andarlo a installare attraverso NPM. Andiamo a seguire la doc e direttamente nella doc possiamo trovare sotto la voce di download tutti i modi che abbiamo per andare a installarlo. Tra l'altro, cosa interessante per ricordarci che è un developer tool, quando lo andiamo a installare dobbiamo salvarlo come dev tool appunto. Quindi la prima cosa che possiamo fare per andarlo a installare è aprire quello che è il nostro terminale. Il nostro terminale è la prima cosa che dobbiamo fare è quella di controllare di avere Node installato. Poiché nel caso non avessimo di installato è necessario andare a installare Node. Basterà scrivere Node. E andare poi a downloadare quella che è la versione stabile. Potete anche downloadare quella corrente, ma io consiglio sempre di andare a installare quella che è stabile. Una volta ottenuto accesso a Node, quello che dobbiamo fare secondo la doc è andare a installare quello che è TypeScript. E quindi andiamo a fare esattamente questo. Io aggiungo sudo perché servono i permessi da amministratore. Utilizziamo la flag G per dire che vogliamo installarlo su tutta la nostra macchina. Andiamo a installarlo. Io ce l'ho già installato, quindi ci ho messo un millisecondo. Ovviamente voi magari ci metterete un attimino di più. E adesso non ci resta che andare sul nostro desktop e creare una foglia. Chiameremo TypeScript YouTube. E vai, va. Ci apriamo una nuova finestrina e ce lo tiriamo al suo interno. Ora andiamo a creare il nostro, zoomiamo anche qua dentro, andiamo a creare il nostro primo file che proprio sarà direttamente un file che chiameremo intro.ts. Ok, ora possiamo andare banalmente a scrivere del codice a caso, quindi const user uguale uguale name john age 30 e poi andare a dire const, non so, prova uguale user dot name. Ok, perfetto. Andiamo a salvare il nostro codice incredibile e ora dovremo aver sbloccato il fatto di poter utilizzare quelli che sono i comandi tsc. Possiamo chiudere il nostro terminale, possiamo chiudere il terminale che non ci serve più. e andiamo poi all'interno del nostro terminale, la nostra PowerShell e andiamo a lanciare il nostro comando tsc intro. Come vedete è stato generato un file javascript. Adesso lui qua si è messo a piangere perché vede che esistono già delle variabili che hanno proprio questo valore di user e prova e quindi si è messo a piangere. La soluzione temporaneamente dovrebbe essere quella di andare ad avere export. Ok, ora non dovrebbe più piangere. Poi andremo a vedere questo cosa significa, al momento risolviamo questo errore e poi ce ne occuperemo successivamente, come vi dicevo anche se fosse rotto, scommettersi mail, chiaramente non esiste, qua c'è un errore, se io andassi a compilare nuovamente questo file ottengo sì qui l'avviso di un errore ma comunque se vado qua sopra nessuno mi impedisce in nessun modo di andare a fare questa operazione, quindi sì c'è un errore mi viene segnalato sì un'altra volta, ma poi comunque il codice viene compilato ed eseguito a prescindere da quello che TypeScript mi notifica, ok? Però iniziamo a vederne quella che è la sua utilità, io qua me ne accorgerei e la smettere subito e mettere tranquillamente mail. Importante ogni volta che cambio devo andare a lanciare nuovamente il comando tsc e intro. Il modo più semplice per risolverlo è quello di andare a lanciare il comando tsc v intro e a questo punto lui va in watchmod ogni volta che io salverò lui cambierà, quindi se io mettesse age, salvo, viene compilato e come vedete qua viene aggiornato automaticamente. Nella prossima lezione inizieremo a seguire passo passo quella che è la doc ufficiale e ne vedremo effettivamente quelli che sono i singoli Type.